Quello che sta facendo Serracchiani in Friuli Venezia Giulia è una vergogna assoluta. Darà da alcuni comuni 2000 euro per ogni clandestino che accolgono. Dunque le amministrazioni locali non saranno premiate se danno migliori servizi ai disabili, maggiore garanzia ai nostri anziani, se tutelano le fasce debole, ma se accolgono clandestini. Da una parte Serracchiani ammazza le autonomie locali con una riforma, quella delle UTI, che uccide tutte quelle realtà virtuose. Dall'altro dice se volete sopravvivere dovete prendere clandestini. Dunque mette di fronte ai sindaci una scelta. O tuteli la tua gente, o difendi il tuo territorio e la tua comunità, ma ti elimino risorse, soldi per dare risposta a quella stessa comunità, oppure ti prendi dei clandestini. È una presidente della regione indegna. Se a questi 2.000 euro sommiamo i 500 euro che il governo Renzi darà per ogni clandestino accolto, se a questo sommiamo i 35 euro al giorno che costa ogni clandestino, e tutto questo viene pagato con soldi, tasse e fatiche dei cittadini di questo paese, voi pensate la cifra enorme che il paese sta spendendo per accogliere dei clandestini. Se Racchiani non è degna di rappresentare i cittadini della nostra regione, se Racchiani deve andare a casa il prima possibile.